Più di un milione i volumi conservati dall'Università di Pavia, oltre 50.000 i prestiti ogni anno gestiti dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo, 1.351 posti di lettura e tre sale studio aperte anche la sera. Il Sistema Bibliotecario offre assistenza nella consultazione dell'OPAC, il catalogo online del materiale posseduto, libri, riviste, ma anche film e registrazioni audio, e l'accesso ai giornali e-book. Tra i servizi offerti, la possibilità di richiedere prestiti anche da biblioteche esterne all'Università di Pavia, italiane e straniere. Gli studenti, attraverso il medesimo sistema, possono avere accesso alle biblioteche pubbliche del territorio pavese, tra cui quelle dei collegi e quella del Policlinico San Matteo. Tutte le biblioteche dell'Ateneo consentono attraverso il Sistema Nilde la richiesta di documenti non presenti a Pavia. Il Sistema Bibliotecario garantisce inoltre l'accesso e l'assistenza nell'uso di banche dati multidisciplinari, umanistiche, giuridiche, economiche e scientifiche. Grazie a tutti.